Furti in centro a finire in manette due donne di nazionalità rumena. Siamo con il capo della mobile Fabio Zampaglione. Dottore ci può spiegare come sono andati i fatti? Abbiamo ricevuto circa un mese fa una denuncia circostanziata di furto dai titolari di un esercizio commerciale i quali avevano notato negli ultimi tempi ammanchi di prodotti notevoli anche perché erano di pregio di un certo valore quindi un ammontare di diverse migliaia di euro. Loro però riuscivano a spiegarsi questo ammanco anche perché nonostante avessero in funzione nel negozio un sistema antitaccheggio molto efficace non aveva rilevato nessun tipo di esportazione di prodotti dal negozio. Qual era il modo soverandi della coppia? Praticamente mediante l'utilizzo di una borsa che poi abbiamo scoperto essere schermata con del metallo nei punti strategici impediva al sistema di entrare in azione quindi tutti i prodotti che venivano riposti all'interno non segnalavano la fuoriuscita dal negozio. A seguito di queste segnalazioni quando siete riusciti a bloccare le due donne? Siamo riusciti a bloccarle l'11 giovedì scorso allora quando c'è stata una segnalazione della presenza di queste due donne sospette e quando siamo arrivati le abbiamo bloccate all'esterno di questa attività commerciale con una borsa dove occultati vi erano dei profumi di pregio erano tra i più costosi del negozio e poi abbiamo trovato anche della bigiotteria di alto valore che poi abbiamo scoperto era stata rubata in un altro centro commerciale viterbesa. Le due donne quindi sono state arrestate e con quale capo di imputazione? Sono state arrestate per il reato di furto in concorso e associate presso la casa circondariare di Civitavecchia. Tra l'altro questa mattina il dottor Dharma ha chiesto praticamente la convalida al GIP dottoressa Marinelli la quale ha appunto convalidato gli arresti ed ha applicato alle due donne la misura cautelare in carcere. Continuano comunque le indagini della squadra mobile? Continuano anche per far luce su eventuali altre vittime quindi attività commerciali che possono aver subito un danno di questo tipo. Continuano anche per far luce su eventuali